Nonostante sia stato approvato dall'Aggiunta regionale il 29 agosto del 2019, il piano sociale 2020-2022 è ancora fermo in Consiglio regionale. Dal 3 marzo scorso, da quando cioè la discussione è stata affrontata in aula, non se ne sa più nulla. Non si sa se e quando si arriverà alla sua approvazione. Un ritardo ingiustificato, denuncia l'ex assessore alle politiche sociali Luigi Mazzuto, perché di fatto vengono bloccate risorse destinate alle fasce più deboli, peraltro in un periodo difficile segnato dalla pandemia. È un ritardo che io non giustifico e non è giustificabile, nel senso che se poteva esserci una presa di posizione, così come c'è stata, contro l'assessore Mazzuto, non ha senso mettere in discussione quelle che sono le azioni a favore dei cittadini e soprattutto della disabilità di questa regione. Oggi, voglio dire più che mai, c'è l'esigenza che questo piano venga approvato per dare modo anche agli ambiti territoriali, quindi ai comitati di gestione, di redigere i piani di zona, ognuno il suo, e dare risposte più prossime a quelle che sono le esigenze attuali. Nel triennio 2020-2022 sono disponibili oltre 41 milioni di euro, grazie al confronto con i sindaci dei vari ambiti territoriali, con i rappresentanti del terzo settore e delle centrali cooperative, con i sindacati e patronati, era stata già stabilita la distribuzione delle risorse, in modo da rafforzare i servizi presenti sul territorio. Ma ora tutto è fermo. Ci sono dei fondi, voglio dire, previsti, strutturali, pronti per essere utilizzati e per essere messi a disposizione delle associazioni, degli ambiti territoriali soprattutto. Ecco, non si capisce perché adesso, voglio dire, questo ritardo nell'approvazione. Io auspico che questo, il piano sociale, venga approvato al più presto perché non è il piano sociale di Mazzuto, non è il piano sociale che, voglio dire, è personalizzato. Ci ha lavorato un comitato tecnico, nominato con una delibera di giunta, persone qualificate, hanno lavorato a gratis senza nessun compenso ovviamente. Non c'è nessun, come dire, nessuna scusante oggi che può ancora, voglio dire, far ritardare l'approvazione del piano stesso. Ci possono fare tutte le modifiche che si vuole, ma intanto, voglio dire, le risorse vanno messe a disposizione del territorio. È fondamentale.